ciao a tutti da christa tg il salutatore del blog grandissimo edoardo leo io saluto tutti quelli di tutti i blog anche quelli che non conosco i social facebook twitter che altro c'è linkedin tutti quanti instagram un saluto cumulativo ciao a tutti direttamente da san giovanni dal primo maggio diamo un buon primo maggio a tutti buon primo maggio non scherzi ti ringrazio grande ciao